Allora il sindaco ha messo in piedi un progetto preliminare che non è ancora definitivo ma che il nuovo sindaco Borsari scusa posso finire, metterà a disposizione attraverso un confronto con i cittadini in questo progetto c'è la possibilità con delle tendine amovibili che salgono e scendono di coprire temporaneamente nel caso in cui ci sia la cerimonia per un laico i simboli religiosi voglio anche ricordare che quella città, scusate però fatemi finire, tanto per riportare un po' di amore e di verità